L'STA System consente di eseguire la nuova iniezione intraligamentosa STA, che è significativamente diversa dall'intraligamentosa tradizionale eseguita con una siringa ipodermica o una siringa ad alta pressione. L'intraligamentosa tradizionale dispensa un basso volume di anestetico usando un'alta pressione. Al contrario, l'iniezione STA intraligamentosa può erogare un volume a pressione minima e fornisce quindi un'iniezione confortevole con anestesia profonda e di più lunga durata. La tecnologia DPS di rilevamento dinamico della pressione, Dynamic Pressure Sensing Technology, progettata nel sistema STA, vi permette di rilevare la pressione in tempo reale mediante un feedback continuo nel corso dell'iniezione. L'STA System vi aiuterà a trovare il sito di iniezione ottimale per posizionare l'ago, offrendo un riscontro audiovisivo. Avrà anche la funzione di mantenere pressioni controllate al di sotto della soglia di dolore dei pazienti. Parliamo di come iniziare. Tecnica di iniezione. Iniezione STA intraligamentosa PDL. Accertarsi che il dispositivo STA System sia impostato sulla modalità STA. Questa iniezione si effettua con il manipolo con ago premontato STA WAND da 30 gauge mezzo pollice. Quando si effettua l'iniezione STA intraligamentosa su un dente mandibolare pluriradicolato, si raccomanda di iniettare su due siti. Iniziare sempre l'iniezione sulla radice distale linguale del molare mandibolare seguito dalla radice mesiale linguale. L'iniezione può essere effettuata per ciascuna radice dei mollari mandibolari in qualunque punto dall'angolo linguale al punto di contatto interprossimale. Per i molari mascellari si raccomanda di iniziare l'iniezione dalla radice distale buccale seguita dalla radice mesiale buccale. L'iniezione può essere effettuata in qualunque punto dall'angolo vestibolare al punto di contatto interprossimale del dente in questione. Quando si effettua un'iniezione STA intraligamentosa ad un dente monoradicolato, in genere è sufficiente un solo sito. Usare siti multipli per i premolari o altri denti anteriori è opzionale. È importante mantenere un costante contatto visivo con l'ingresso del lago nel solco. Per migliorare l'accesso alle zone più difficili, accorciare il manipolo STA togliendo una sezione del manico. Questo risulterà in un accesso migliore. In molti casi è opportuno piegare l'ago per un suo migliore collocamento. L'ago non deve mai essere piegato a più di 45 gradi. L'ago va piegato verso il bisello. Ciò faciliterà l'accesso alla radice distale dei molari mandibolari. Il bisello del lago deve essere orientato verso la superficie radicolare del dente durante l'inserimento del lago nel solco. Tenendo il manipolo a mo' di penna, approcciare il dente ad un angolo di 45 gradi con il bisello verso il dente. Inserire l'ago molto lentamente nel solco gengivale, come fosse una sonda parodontale, mentre si avvia simultaneamente la velocità Control Flow. La velocità Control Flow viene attivata premendo il pedale di controllo e dopo 3 bip si udrà il dispositivo a emettere l'indicazione vocale Cruise, crociera. Una volta udita la parola Cruise, si rimuove il piede dal pedale. Il dispositivo STA continuerà a derogare il flusso di soluzione anestetica affinché non si rispingerà e rilascerà il pedale nuovamente per disattivare il flusso. Avanzare l'ago lentamente nel solco. Muovere delicatamente l'ago nel solco fino ad avvertire una resistenza. Restare con un angolo di circa 45 gradi mentre si mantiene l'ago in posizione con pressione della mano leggera. Non usare eccessiva pressione della mano sul lago poiché potrebbe bloccare o occludere il fluire dell'anestetico dal lago. Controllare e stabilizzare con cura il movimento del lago utilizzando un punto di appoggio per le dita. Una volta avvertita la base del solco, occorre minimizzare il movimento per 10-15 secondi mentre la tecnologia DPS inizia a rilevare la posizione. La scala graduata visiva di pressione si compone di una serie di LED con luci arancio, gialle e verdi. Mentre l'SDA System comincia a rilevare la pressione, si vedranno illuminarsi in sequenza i LED sull'interfaccia del dispositivo. Se dopo 20-30 secondi la pressione non viene rilevata, occorrerà riposizionare l'ago. L'SDA System fornisce inoltre un'informazione audio sulla pressione con una serie di trettoni ascendenti che indicano come il sistema stia rilevando la pressione alla punta del lago. Dopo 20-30 secondi, con l'ago posizionato nel sito corretto, si udrà il dispositivo emettere l'indicazione vocale PDL-PDL, la prima volta che viene identificato lo spazio intraligamentoso. Questo annuncio è seguito da una serie di due BIP più lunghi che indicano come si stia mantenendo la pressione giusta. Nel corso della stessa iniezione, dopo l'identificazione iniziale dello spazio intraligamentoso, si udrà soltanto la serie di due BIP più lunghi una volta identificato di nuovo tale spazio. Inserire l'ago nella radice mesiale del molare, accertandosi che vi sia un angolo di 45 gradi tra l'ago e la superficie radicolare del dente. Potrebbe non essere necessario piegare l'ago per avere l'accesso al sito mesiale. Fare attenzione ad inserire l'ago con il bisello rivolto verso la superficie radicolare del dente. Avanzare l'ago lentamente nel solco fino in fondo, fino ad avvertire una resistenza. Ancora una volta, l'SDA System comincerà a determinare il posizionamento del lago mediante DPS. È importante sapere che si può effettuare con successo un'iniezione stando nella zona gialla alta. La parte alta della zona dei LED gialli indica che si ha un'alta probabilità di essere nella posizione esatta per l'iniezione STA intraligamentosa. Per un'iniezione di successo è necessario che i LED restino accesi almeno nella zona gialla per tutta la durata del procedimento. Notare che non si udrà nella zona gialla l'indicazione vocale PDL. Un'iniezione STA di successo si può effettuare tanto nella zona gialla alta che verde. Entrambe sono indicative di un posizionamento corretto. Per visualizzare la quantità di soluzione anestetica erogata, si vedano i LED verdi verticali sull'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia. Allo spegnersi dei LED, si udrà un tono corrispondente a ciascun quarto di tubo fiala. Una volta somministrato il dosaggio desiderato, rimuovere l'ago. Per evitare che l'anestetico gocci nella bocca del paziente, mentre l'ago è ancora inserito nel tessuto, premere e rilasciare il pedale di controllo. Contare tre bip dopo aver rilasciato il pedale e quindi rimuovere del tutto l'ago dalla bocca del paziente. Orientare l'ago in direzione opposta al paziente, in quanto una piccola quantità di anestetico potrebbe essere ancora presente. Complicazioni postoperatorie. Tre sono le cause principali di complicazioni postoperatorie da iniezioni PDL. La prima, i tessuti intraligamentosi possono subire traumi meccanici dovuti all'ago. È importante non usare una forza eccessiva della mano quando si posiziona l'ago nello spazio intraligamentoso. Incuneare o forzare l'ago nello spazio intraligamentoso può causare un fastidio postoperatorio. La seconda causa di complicazioni postoperatorie può essere la seguente. Può discendere dalla somministrazione di un quantitativo eccessivo di anestetico con la conseguenza di volume eccessivo di fluido nell'area della papilla dentale o del legamento parodontale con danno ai tessuti. La terza causa di complicazioni postoperatorie può essere collegata alla scelta sbagliata della soluzione anestetica usata per l'iniezione intraligamentosa PDL. Fare riferimento ad un'adeguata fonte scientifica per indicazioni e raccomandazioni circa le soluzioni di anestetico locale e specifici dosaggi per ciascun tipo di iniezione. È responsabilità esclusiva del clinico identificare, selezionare e somministrare il farmaco appropriato e la quantità adeguata per dato paziente. L'informazione che segue costituisce un suggerimento e non già una linea guida precisa per ogni specifico paziente. I tipi di farmaco e i dosaggi suggeriti per l'iniezione STA intraligamentosa sono i seguenti. L'idocaina HCL al 2%, 1 a 100.000 epinefrina. Si consiglia una dose di farmaco di mezza tubofiala o 0,9 ml per denti a radice singola. Per denti a radice multipla, l'indicazione è mezza tubofiala o 0,9 ml di anestetico per ciascuna radice. Quindi in totale 1,8 ml di anestetico per denti a radice multipla. Sono state registrate reazioni indesiderate quando si usano anestetici locali concentrati al 4%. Se si sceglie di usare un anestetico locale concentrato al 4%, tipo articaina HCL al 4%, utilizzare metà del dosaggio soprandicato usando cautela con questi medicinali. Fare riferimento a libri di testo appropriati per indicazioni e raccomandazioni circa soluzioni di anestetico locale e specifici dosaggi. L'iniezione STA intraligamentosa è virtualmente indolore ed è ideale per l'anestesia al singolo dente sia nel mascellare che in mandibola, fornendo un'anestesia profonda senza anestesia collaterale al viso, labbra e lingua per le procedure di meno di un'ora. È importante rendersi conto che l'iniezione STA intraligamentosa può essere ora utilizzata come l'iniezione principale invece del blocco mandibolare nel trattamento di singoli denti della mandibola. L'anestesia al PDL con il sistema STA è più prevedibile di quella eseguita tramite blocco mandibolare. Ha i seguenti vantaggi per voi e i vostri pazienti. In primo luogo, vi permette di risparmiare tempo grazie all'insorgenza immediata dell'anestesia. Non è più necessario attendere 5-10 minuti per scoprire se la vostra trunculare ha avuto successo o meno. In secondo luogo, vi permette di operare bilateralmente in un unico appuntamento. Non è più necessario che i vostri pazienti tornino per la seconda volta se hanno bisogno di trattamenti in entrambi i quadranti inferiori. E infine, elimina la parestesia collaterale di labbra, faccia e lingua, il tutto effettuato in modo indolore. L'STA System renderà il vostro studio più efficiente e più produttivo. Grazie a tutti.